Siamo dunque alla pagina sportiva con il Corriere dell'Umbria, Grifo alla pari con le Big. Siamo in Serie B ovviamente, il Lecce ha fatto tre tiri e due gol, noi siamo sempre in partita, prima o poi girerà, parla il tecnico Nesta che continua per la sua strada, cambiare modulo a 5 abbiamo fatto davvero ridere. E poi i 25 anni del club Zugero, il Sodalizio nasce nel 1994 a Santa Anatolia di Narco, all'inizio si chiamava Giovanni Cornacchini, vanta 136 iscritti, raduna i tifosi perugini della Balnerina ed ecco le foto. Andiamo a parlare di Volley, Sir Energia dal terzo set, la rimontona di 9 punti, 19 a 10, dà una nuova linfa in vista della sfida del 25 aprile, Diesel Leon parte piana e fa fatica, poi esplode e conduce Perugia al successo di gara 3. Andiamo in Serie C, Fere due obiettivi, prima vittoria e salvezza diretta, domenica contro i Romagnoli se Rosso Verdi battono in Ravenna evitano la retrocessione da ultimo posto. E poi sempre in Serie C, Casiraghi addio al gubbio, dopo 4 anni la storia tra il Rosso Blu e il Principino è ai titoli di coda, 150 presenze, 23 gol e 22 assist, bene con Acori, super con Maggi straordinario quest'anno. Intanto per il Fuzza al palestre piene, per il Città di Gubbio, Lazio K.O. ai rigori, torneo alla Scintilla Pisa e poi campionato Beretti, bebi di Polverini ai playoff, sabato al Barbetti con il Novara. Andiamo in eccellenza, Ponte lascia anche Grilli, dopo l'addio di sette giocatori si dimette anche il tecnico, al suo posto Moreno Martinetti, il mister dice l'obiettivo salvezza è diventato solo mio, dalla società promesse non mantenute. Tutto pronto a Città di Castello per lo Sporting Club al Bernini, arrivano mille bebi talenti. E poi cambiamo sport, parliamo di moto enduro agli assoluti, Montanari vola, che poker è il campione d'Europa uscente, ha vinto tutte le prime quattro prove valide per il titolo italiano, il Ternano che, come dire, davvero spopola Montanari. Andiamo a parlare di basket a due femminile, Pfu stasera visita alla capolista, obiettivo blindare il sesto posto e poi per la palla a nuoto brava la Libertas Rarinantes, Filippucci e Fortunelli fanno lo show. Il messaggero Grifo, ora il tutto per tutto, sabato a La Spezia e poi col Cittadella, in ballo un campionato, la lotta per i playoff si allarga e adesso diventa una vera e propria roulette. Anche Pescara e Verona in tilt, mentre arrivano Ascoli, Cosenza e soprattutto Cremonese. Otto squadre si giocano quattro posti, Nesta non molla, dice Io ci credo fino alla fine. Intanto il Foligno scalda i motori, domani sul campo neutro di Gualdo Tadino può essere promozione, l'incontro infatti è tra Sanzisto e Foligno. Ancora per il messaggero, andiamo a Terni, una vittoria per la salvezza diretta, serve battere Domenica e Ravenna per evitare di dover soffrire fino alla fine. E poi andiamo a parlare di Sir, battaglia fino alla fine, i Block Devils preparano la sfida di domani con Modena, Ricci dice nulla sarà deciso finché l'ultimo pallone non sarà a terra. Valdiceppo, Orviete e Todi, giorni della verità, ovviamente parliamo di basket e poi andiamo al volley di A2, siamo a Spoleto, i tifosi stanno con la Monini, Spoleto è da Serie A. L'inserto della Nazione, Grifo, tutto il campionato in cinque giorni, sabato la sfida con lo Spezia, mercoledì in casa con il Cittadella, già la prossima sarà una giornata campale e Nesta dice qualcosa cambierà, ho fiducia. Ancora per la Nazione andiamo a Terni, per il capitano Defendi si tenta un recupero record, Foligno Sanzisto a Gualdo Tadino sarà una partita vera e sempre andiamo in Serie C, Davi, parliamo di Gubbio in campo a caccia di tre punti in caso di vittoria con la San Benedettese, si aprirebbero anche le porte dei playoff. Per l'eccellenza a Ponte Vecchio si dimette anche l'allenatore, squadra affidata a Martinetti. Questo per lo sport, ovviamente come sempre, pochi secondi la copertina del nostro meteo. Dunque la giornata odierna si apre con ciali parzialmente nuvolosi su tutto il territorio regionale, nel corso della giornata nuvolosità di passaggio, più consistente in appennino, potrebbero esserci dei piovaschi ma non sono attese grosse perturbazioni, le temperature minime tra i 6 e gli 8 gradi, le massime tra i 18 e i 21, la grafica ci dà 16-18 ma dovrebbero essere queste che vi ho detto, 6-8-18-21. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi ricordo che questa sera a partire dalle ore 21 su TRG Canale 11 torna l'attesa dedicata alla Festa dei Ceri. Buona giornata. Buona giornata.